Perdonatevi se ho usato in maniera impropria l'espressione braccio di leva, che sia molto chiaro cosa è l'espressione corretta di braccio di leva e cosa io ho fatto, ci sono due modi di fare il calcolo del modulo del momento precedente. Sto pensando al contesto del pendolo semplice, ok? Come ho fatto io, che mi viene naturale, cosa che ragiono da fisico è per me un momento torcente e un prodotto vettore, per me un momento torcente e un prodotto vettore, quindi io ho chiaro che ho un punto di applicazione, ho un'origine rispetto alla quale io sto a calcolare un momento torcente, ho il vettore che va dall'origine al punto di applicazione e qua ho la forza e mi chiedo quanta parte di questa forza è utile a fare un momento torcente, la parte che è utile è la parte storta, io ragiono così, mi viene istintivo ed ecco quello che ho fatto, la parte della forza peso che è utile è mg seno di teta e ripeto, la parte che è utile è questa, questa è la parte che è utile, questa è la parte che è utile, questa parte qua non serve a far vuotare, questa è la parte utile, quindi da me viene da spezzare quella, la parte storta, la parte storta è mg seno di teta poi il prodotto vettore cos'è? è il modulo del vettore posizione per il modulo della parte utile della forza e la parte utile è mg seno di teta, il modulo del vettore posizione è r nel caso del tendolo semplice, invece l'altro modo di ragionare è un po' tipico ai meccanici che io non userò io uso questo metodo di ragionare, solo che ho usato l'espressione inappropriatamente, l'altro modo di ragionare è dire il modulo del momento torcente è il modulo della forza per il braccio di leva, il braccio di leva è per l'appunto la distanza tra l'allineazione della forza e la linea che parallela a quella della forza che passa per il polo e quella distanza è la stessa cosa, semplicemente sto mettendo le parentesi in maniera diversa, d'accordo? quindi io prima in maniera scorretta, inappropriata ho chiamato questa distanza in braccio di leva, no, la distanza in braccio di leva è questo, quindi per recitare come la dico io devo dire la parte utile della forza peso moltiplicata per la distanza del punto di applicazione dall'origine, punto, questa è la distanza del punto di applicazione dall'origine, questa invece è la distanza tra la retta d'azione della forza e la retta parallela alla prima passate per l'origine, sono due distanze diverse, d'accordo? fate quello che volete, al meccanici probabilmente alla vostra carriera ragionerete così, ma io nel corso ragiono così, va bene? e questo è un anello, di nuovo potrei portare qua un anello, questo è troppo piccolo, servirebbe un anello un po' più grande e questo è un anello e voi lo montate su un coltello, cioè su qualcosa di affilato, e poi cosa succede? questo anello qua, quando l'anello sia omogeneo, di massa M è di raggio R, stessa massa del pedro semplice, stessa massa del bastone, quando il centro di massa, che qui è lungo la verticale, e lo tengo fermo lì, lascio presa, l'anello non fa nulla, se invece sposto l'anello dalla verticale, e qui il disegno forse è un po' più complicato, quindi più facile per me è disegnare il cerchio, questo è il centro di massa, e metto il coltello qui, e metto il centro di massa via dalla verticale, a un certo angolo, se qua non c'è attrito con l'aria, e questo punto qui è fermo, potreste pensare che c'è, non so, no, perché è chiaro che se non c'è attrito potrebbe scivolare, volete fare in modo che, non so, l'anello abbia, se volete un piccolo, con un buco, no? Inqualificate un piodola, d'accordo? Ok? E si è lubrificato, allora quando volate la presa, l'anello dodola, è un pendolo fisico, ok? E quindi voi cosa fate? Voi scrivete, come al solito, non mA uguale F, oppure potete anche partire così, perché ogni senti fisico deve partire subito con Newton, mA uguale F! Poi dite, ah, questo è un moto rotazionale, quindi devo prendere questo come paradigma, come modello, e scrivere un'equazione appropriata. Per il moto rotazionale, non è la massa che mi serve, ma è il momento di inercia, non è x due punti, ma è teta due punti, e non è la forza, ma è tau. Quindi partite pure così, ma come punto di partenza, eh, diciamo è il passaggio zero, la prima equazione è quella sotto, e i teta due punti uguali a tau. i è il momento di inercia, quindi questa equazione dov'è? Questa equazione è nell'asse perpendicolare all'oranea, nel piano perpendicolare al moto di questo benedetto anello. Questa equazione è nell'asse z, se nell'asse z intendiamo l'asse che esce dalla lavagna, quindi se questo è l'asse x, questo è l'asse y, è rispetto all'asse z che esce dalla lavagna. Qui l'equazione è nell'asse z, dovete sempre tenere presente dov'è quella equazione z, perché l'angolo teta misura l'angolo di rotazione attorno all'asse. E tau, quello che è il termine a destra, è lungo l'asse, tau o è uscente dalla lavagna o è perpendicolare alla lavagna. In questo caso, in questo fotogramma, dov'è tau? È dentro la lavagna. Siete d'accordo? Dov'è che disegnate la forza peso? Nel centro di massa, dobbiamo convincere di questo fatto. Quindi, la forza peso la disegno qua, nel centro di massa, è chiaro che sul disco c'è un'altra forza, no? C'è la forza qua che lo sta tenendo, se non ci fosse il famoso bucchetto con il chiodo, se non fosse per il chiodo quello non starebbe lì. C'è un'altra forza, ma la forza che qua, che momento torcente ha rispetto a questo punto? Zero! Perché la forza c'è, è anche grande, il chiodo potrebbe cedere, perché se fate un anello di piombo e metti un chiudino, il chiodino potrebbe cedere. C'è una forza, potrebbe anche essere grande, ma ha un momento torcente, rispetto a questo punto, zero! Perché la forza passa proprio di là, c'è un'altra forza che invece ha un momento torcente, è della forza peso, ma quanta parte della forza peso è utile? Solo mg zero di teta, quindi di nuovo è solo questa parte della forza peso che è utile, questa parte non ha un momento torcente, d'accordo? Quindi questa parte che è utile è mg zero di teta. Qual è la distanza dal punto di applicazione della forza dall'origine? È il raggio dell'anello, quindi se il raggio dell'anello è R, quindi il momento torcente, quindi scrivo l'equazione di Newton in tutta la sua gloria, è il momento d'inerzia che dobbiamo ancora dire, perché questo dell'anello è... Il momento d'inerzia, quant'è il momento d'inerzia dell'anello? Fermi, dobbiamo calcolarlo, tornare indietro a un teorema che è annunciato l'altro giorno, il teorema degli assi paralleli. Dov'è la signorina Deltro Steiner? Eccola là! Buongiorno signorina! Buongiorno pricipessa! Scriviamo il momento torcente prima. Per me è mg seno di teta che è la parte della forza peso utile per la distanza del punto di applicazione, ovvero il centro di massa dall'origine e quello è il raggio del disco. Un meccanico direbbe è mg per il braccio di leva e il braccio di leva è questa distanza qua. Ok? Che è R seno di teta. È la stessa matematica e solo la parentesi è messa in vedere la diversa. D'accordo? Qual è il momento d'inerzia dell'anello? Signorina, teorema Steiner, cosa è il momento d'inerzia dell'anello? Il momento d'inerzia dell'anello rispetto a quest'asse rispetto all'asse z è per il teorema degli assi paralleli cos'è? Il momento d'inerzia rispetto ad un'asse passante per il centro di massa più un contributo che ha l'inersione di un momento d'inerzia che è la massa dell'anello per la distanza tra gli assi. Quindi l'asse passante per il centro di massa è questo. E qual è il momento d'inerzia di un anello fatto così? Tutta la materia è distante dall'asso passato per il centro alla distanza r. Quindi il momento d'inerzia è mr quadro. D'accordo? Quindi il cm più la massa dell'anello per la distanza tra gli assi. Quest'asse e quest'asse distano r. D'accordo? Ma questo quanto vale? Questo vale mr quadro. Perché? Perché tutta la massa è alla distanza r dall'asse. E quindi evidentemente è la massa della distanza comune di tutte le particelle dall'asse elevata a quale a. D'accordo? Quindi vedete che il momento d'inerzia dell'anello rispetto a questo asse è 2mr quadro. Perché c'è questo e questo che guarda caso, perché l'anello è cavo, perché l'anello è fatto così. Quindi è 2mr quadro, accelerazione angolare, uguale a meno la carica gravitazionale gr, seno di teta. La carica gravitazionale è uguale alla massa inenziale. Questo r si mangia questo qui e quindi aiutatemi a non sbagliare. Quando sono stanco faccio sbagli, ma voi mi fermerete vero? Quindi ho la r, quindi semplicemente meno g diviso 2r seno di teta. Corretto? Solo 2r che va sotto, questa r si mangia quella. Bene? Quindi l'equazione dell'anello è questa, che è un'equazione differenziale omogenea ma non è lineale. Se facciamo partire l'anello da angoli piccoli possiamo scrivere l'equazione approssimata che invece è lineale, quindi è teta due punti più g diviso 2r teta uguale a 0. Per ispezione, so subito, almeno dell'equazione approssimata, cos'è omega 0 quadro. Per ispezione, omega 0 quadro dell'anello è uguale a g diviso 2r. E quindi il periodo dell'anello è uguale a 2pi greco 2r diviso g. Ok? Va bene? Va bene? In effetti se io volessi fare una gara, in effetti io lo potrebbe dire ma questo anello è grande 2r, confrontiamo cose che hanno tutta la stessa lunghezza no? Il filo ha lunghezza r, il bastone ha lunghezza r, prendiamo un anello che ha diametro r. Ok? Quindi cambiamo il conto e cosa diventerebbe? Aiutatemi a non sbagliare, lo sto improvvisando, semplicemente mi sono accorto che l'anello ha una lunghezza doppia del bastone, ha una lunghezza doppia del filo, eh? Quindi è più grande, usiamoli in modo che sembrano avere la stessa dimensione, no? Quindi come dobbiamo fare? Allora, chiamiamo la lunghezza questo qua è r mezzi, cioè voglio che il diamo questo qua non è più r ma la chiamiamo r mezzi, ok? Quindi questo è r mezzi, r mezzi, quindi devo mettere r mezzi da perduto, r mezzi, r mezzi, e qua dobbiamo mettere r mezzi, quindi attenzione, eh attenzione, no? Se volete, se questa che sto facendo vi confonde, fermatevi là. Io sto solo cercando di farvi una specie di esercizio in cui dico che le dimensioni di questi pedoli sono tutti uguali, in questo momento non lo sono, l'anello è doppio, tutto lì, fatelo da soli, cambio, quindi voglio un anello che abbia la stessa dimensione del bastone e del filo, d'accordo? Quindi questo anello, se io uso il simbolo r, il raggio dell'anello è r mezzi, cioè io voglio usare il simbolo r, quindi siamo d'accordo? Cosa cambia qua? Questo va bene perché è la distanza del punto di applicazione della forza che è nel centro di massa dall'origine, questo a destra è giusto, adesso è giusto, dobbiamo scrivere questo, no? L'anello, allora questo è r mezzi e quindi la distanza comune è r mezzi, quindi il momento di inerzia è la massa dell'anello per la distanza comune di tutte le particelle del quadrato, quindi r mezzi al quadrato e come vedete è un quarto di mr mezzi, d'accordo? Siete d'accordo? Quindi questo è un quarto di mr mezzi, teta due punti, uguale alla carica gravitazionale mg sia di teta r mezzi, d'accordo? Intanto di non sbagliarmi adesso, ho questo 4 che va qua e si mangerà uno di questi, quindi ho un 2, un r si mangerà questo, che porto di qua la r, dovrebbe essere questo, Quindi ho teta due punti uguale a meno 2g diviso r seno di teta, siete d'accordo? Qualcuno può dirmi se è d'accordo o no? Perché avendo cancellato la mano ho perso la trassa di cosa ho fatto, quindi la riscrivo e a mente mi controllo da solo, visto che nessuno mi aiuta, questo è un quarto mr quadrato dentro i due punti, Siete d'accordo lei? Siete d'accordo lei? Dov'è l'errore? Non lo sta facendo. Qualcuno l'ha fatto in conto, è d'accordo con me? Sì? Sì? Ok. Quindi, eh? Secondo me, lì dovrebbe essere un mezzo mr quadrato nei due punti, perché sarebbe icm più un quarto mr quadrato? Sì. Cioè è qua che è lo sbaglio secondo lei? Sì, perché dovrebbe... Perché io ho la distanza comune è r mezzi. Sì, esatto. Quindi sarebbe un quarto mr quadrato più un quarto mr quadrato più un quarto mr quadrato. Perché sarebbe z. Ah, perché ho dimenticato di non fare il teorema degli assi paralleli? Eh che cazzo, sì? Quindi questo è corretto. Ok? Giusto? Adesso devo aggiungere questo. Ah, ma questo non è r, ma è r mezzi. Giusto? Perché la distanza degli assi è r mezzi. Questo è il contributo del teorema di Steiner, giusto signorina? Quindi la massa per la distanza degli assi. Siccome adesso un'asse passa di qua e un'asse passa di distanza degli assi è r mezzi. Quindi r mezzi è quadrato. Questo è un quarto. E quindi un quarto più un quarto fa un mezzo. Ok? Quindi questo diventa un mezzo mr quadrato. Ok? Quindi questo è cacca. Quindi questo 2 va via con questo 2. Questo r va via con questo r. Ecco la m va via con la m. E quindi il teorema di 2 punti uguale a meno g diviso r. Signorite, interessante! Infatti probabilmente vi sarei accorto perché è risaputo che il periodo di un anello è uguale al pedolo semplice. D'accordo? Quindi vi ricordavo che il periodo di un anello è uguale al pedolo semplice. Perchè questa è esattamente uguale all'equazione linearizzata. E questa qui, no? Quindi l'anello mi sarei probabilmente accorto. Prima o poi, magari guardando gli appunti. direi che avrei pensato, oh cazzo ho detto da punti all'altro. Variazione sul tema così cominciate a capire che in fondo questi esercizi, se uno ha capito l'idea base, sono semplici. Non sono affatto difficili. Invece di un anello vuoto facciamo un anello pieno. Quindi qua avete l'anello pieno in cui avete fatto il buco e qua ci piantate un chiodo e lui oscilla no? Stessa cosa, cosa cambia qua? E' solo il momento inerzia perchè il centro di massa è sempre qua quindi qua avrò sempre r mezzi perchè la distanza dal punto di applicazione adesso abbiamo chiamato tutto questo r Quindi questo è r mezzi perchè sto usando lo stesso r Questo invece è il contributo che viene dal teorema degli assi paralleli che era quello errore che stavo facendo Perchè il momento inerzia rispetto ad un asse passato per il centro di massa di un disco pieno, un disco omogeneo è un mezzo m r quadro Quindi ho un mezzo m r quadro, poi ho il contributo della distanza tra gli assi e gli assi sono appunto distanti r mezzi Quindi ho m per r mezzi al quadrato e questo è un quarto giusto? Sto sbagliando di nuovo? Quindi questo è un quarto m r mezzi e come vedete questo può essere scritto così Quindi ho tre quarti m r mezzi quindi questo è tre quarti m r mezzi e lascio un buon incontro, va bene? Linearizzatelo voi, va bene? Vedete come questi esercizi sono semplici? Come sono semplici anche queste qua che avevo fatto stamattina con la fibra Perchè con la fibra potete immaginare di attaccare in fondo la fibra cose diverse Si il bastone con le due masse ma potreste anche attaccare un anello oppure una ruota Allora, quale serve un momento di inerzia? Eh? Quale serve un momento di inerzia se attacco una ruota con tutta la massa sul bordo? Invece questa è sparpagliata? Eh? Fateli questi esercizi Quello del pendolo, un altro, potrebbe essere questo Forse è più facile disegnarlo di lato Questo è un muro, questa è una piastra così, omogenea Fate un buco qua Ed è questa la vostra piastra Col buco, piattate il chiodo e lubrificate Quindi state tenendo la piastra così Eccolo qua Lo vedete? Quale serve il periodo? Coraggio Qua cosa cambierebbe? Il momento di inerzia cos'è? In questo caso sapete che il momento di inerzia rispetto ad un'asse che passa di qua Questo è un terzo m a quadro più b quadro L'abbiamo fatto, no? Il teorema degli assi perpendicolari Uguale E fatelo voi i passaggi Cioè qual è il periodo di oscillazione di questo oggetto? No? Sono carini questi Tipici di disegnare gli orari Due parole su dove si disegna Ovviamente in questo esercizio Qual è la cosa tricky? Dove è il centro di massa? Perché, attenzione È un terzo m a quadro più b quadro Teta 2 punti Poi avete certo Mg La parte utile Poi però se avete la distanza Di tutta applicazione dal buco E il centro di massa è qua Quindi questa distanza quant'è? Quindi dovete fare Questo è b mezzi E questo è a mezzi Quindi questa distanza quant'è? Ok? Pensate Usate la testa Fate i passaggi voi Quindi due parole Perché il centro di massa Perché la forza peso È nel centro di massa La forza peso si disegna nel centro di massa Se sforo la farò martedì Attenzione Ok? Attenzione! Allora, sia questa particella E questa particella E questa particella Ha due particelle Di un sistema Particella iesima e jesima Appartengono al sistema Ok? Allora, su questa particella Esiste la forza che nasce dall'interazione Di questa Quindi questa è la particella i E questa particella j Questa è la forza che la i sente Ed è dovuta alla j E questa è la forza che la j Ed è dovuta alla i Queste sono forze interne Se vi ricordate Vi ho detto dall'inizio Quando abbiamo parlato delle leggi di Newton Come le ha raccontato Non Newton, ma come le ha raccontate Mach Una delle cose che vi ho detto E' che se avete due particelle Che stanno interagendo Le loro accelerazioni Sono antiparallele Vi ricordate? Ma se questa è una particella Questa è un'altra particella Avevo detto che non basta Che l'accelerazione di una Queste d'accordo sono antiparallele Due accelerazioni in modo diverso Ma potrebbero essere antiparallele queste Dove che sono? Questa va di qua E questa qua va di qua Vi avevo detto che devono essere antiparallele Ma lungo la linea che congiunge Due particelle Quindi la forza Che è la particella 1 E' lungo la linea che congiunge La particella i con la particella j Eventuali forze esterne Se queste sono forze esterne Se queste sono forze esterne La somma di queste diventa La forza esterna sulla particella 1 E queste sono forze esterne Sulla particella j E la somma di queste E la forza esterna sulla 2 Queste qua invece Possono avere la riduzione del cazzo Lascia dare l'interazione della j Con altre particelle in giro per il mondo Non appartenenti al sistema Allora deve essere chiaro Lascio a voi fare la dimostrazione Shhh Lascio a voi fare la dimostrazione Perché siete così maleducati Che La derivata Del momento della quantità di moto Di un sistema Di un sistema E' uguale Al momento torcente Delle forze esterne E' uguale al momento torcente In uno spirito molto simile A come ho messo tra virgolette Le forze esterne che agiva sul sistema E' uguale al momento Se Il momento esterno delle forze esterne Il momento delle forze esterne vale 0 Allora il momento della quantità di moto Del sistema è costante Se è diverso da 0 Non è costante Le forze interne Non fanno un momento torcente Pensateci La base della dimostrazione è questa Se questa è la particella I E questa è la particella J E appartengono al sistema E questa è la forza FIJ E questa è la forza uguale e contraria A FJI E questo è un punto che chiamate origine E qualcuno vi chiede Qual è il momento torcente Di quelle due forze E capite subito Che quelle due forze Hanno un momento torcente Rispetto all'origine 0 Perché? Questa è la posizione della particella Chiamiamola 1 e 2 Senza usare la rotazione È troppo difficile per voi Che avete magari Siete stanchi Questa è la particella 1 E questa è la particella 2 Questa è la forza uguale a 1 Senta uguale a 2 Questa è la forza uguale a 2 Senta uguale a 1 Va bene? Adesso vi chiedo Qual è il momento torcente Che la particella 1 sente Per effetto dell'interazione con la 2 Voi cosa fate? Definizione Il momento torcente Che la particella 1 Sente dovuto all'interazione con la 2 Cos'è? È il vettore posizione della particella 1 Perché la forza applicata qua Quindi è il vettore posizione Che va dall'origine Né al punto di applicazione della forza Prodotto vettore F1,2 Qual è il momento torcente Che la particella 2 sente Per effetto dell'interazione con la 1? Il momento torcente Che la 2 sente Per effetto dell'interazione con la 1 È il vettore posizione Del punto di applicazione della forza La forza è applicata qua E quindi è nella particella 2 Quindi questo è il vettore posizione della particella 2 Prodotto vettore F2,1 Adesso qual'è la somma di questi due? La somma di questi due è tau La somma La somma E' uguale tau 1 Più tau 2 E questo è uguale A R1 Prodotto F1,2 Più R2 Prodotto Mannaggia me Fatica Fretta e stanchezza Fanno brutte cose Questa è una dimostrazione che chiedo a tutti Adesso cosa fate? Visto che F2,1 E' uguale e contraria A F1,2 Questa qua può essere riscritta Come questa Ma con il cambio di segno Quindi avete R1 Prodotto F1,2 A più R2 Prodotto Meno F1,2 Questo e questo sono in comune Proprietà distributiva Del prodotto vettoriale Posso accantonare a destra A destra Mi raccomando Perché il prodotto vettoriale è anticonmutativo Lasciare a destra Quello che è a destra E lasciare a sinistra Quello che è a sinistra Quindi posso mettere F1,2 In comune a sinistra Quindi ho R1 Meno R2 Che moltiplica Il loro F1,2 Adesso lo studente Quadratico medio Deve potermi dire quanto vale questo Per superare l'esame Se non lo sa lo caccio Quanto vale? E perchè? E perchè? Quanto vale? E perchè? Cosa vale questo? Ovviamente è un punto di domanda vettoriale Che vettore è quello? Signorina Inquadri quella formula Signora Grazie Signora Eh? Quanto vale? Qualcuno? Eh? Perché? Perché Corrisponde al delta R R1 Meno R2 Hanno la stessa direzione Cioè non sono vettori storti E quindi non individuano il piano Ho promossa L'ha detto proprio bene Che non sono storti Complimento E' il vettore nullo Cosa deduco? Fate tesoro questo Che le forze interne Di un sistema Non sono capaci di farlo ruotare Le forze interne non sono capaci di ruotare Questa è la prima cosa Ok? Se volete fare accelerare angolarmente una cosa Avete bisogno di forze esterne Perché forze interne Non la faranno mai ruotare Saranno forze esterne a farlo accelerare angolarmente A farlo ruotare Quindi per avere la derivata rispetto al tempo Del momento a quantità di moto del sistema diverso da zero Servono forze esterne E devono avere un momento torcente Se non ci sono forze esterne Perché il sistema è isolato Le forze interne Eppure che ci sono Non sono capaci di far accelerare Agolarmente il sistema Prima cosa Prima cosa Adesso Questo è di nuovo il solito sistema Eccolo qua Particella 1 Particella 2 Immaginate che il centro di massa sia qua Quindi voi potete dire che questa particella Ha una massa più grande di quella E potete anche dire di quanto In base al disegno Siete responsabili di questo Adesso La forza tra di loro Le forze di interazione tra di loro Non sono capaci di far accelerare angolamente la quantità di moto Probabilmente sforerò Quindi dovrò continuare Se questo è il pianeta Terra Quindi voi siete qua Disegnate la forza peso Disegnate la forza peso Delle particelle La forza peso È proporzionale Alla massa Delle particelle Ok? Perché è l'unico modo Per garantire Che quando la forza peso agisce Tutti i corpi avranno la stessa accelerazione Quindi Supponiamo Che questa qua Che massa ha rispetto a questo? Circa 2 Ok? Immaginate che M2 Sia uguale a 2M1 Quindi metterei lì Il centro di massa Ok? Adesso Disegnate la forza peso Va verso il basso Vedete che la persona Dini così Disegnate delle frecce Che devono essere fatte in scala Quindi La forza peso Dov'è il gesso? Questo qui Ha una massa doppia di questo E il centro di massa è là Quindi La forza gialla La freccia gialla Che devo disegnare qua Deve avere il modulo doppio di quello Quindi Se questo è Se disegno questo Questo Deve avere il modulo doppio Ci siete d'accordo? Deve essere molto chiaro questo Adesso Descriviamo il momento A quantità di moto Come diceva Cambron Nella battaglia di Waterloo Sapete cosa ha detto? Mi dice Merda Io voglio il momento Della quantità di moto Rispetto al centro di massa Del sistema Anzi ho usato la notazione Qua S qua giù E il Cm qua su Non mi ricordo che cazzo Ho messo il Cm Non è importante Deve essere una notazione Chiara dal contesto Ok? Io voglio il momento Della quantità di moto Del sistema Rispetto al centro di massa Ok? Quello cambierà nel tempo Se ci sono Momenti Di forze esterne Forze esterne ci sono? Sì La forza peso Quelle due particelle Interessiscono di loro Ma interessiscono la terra E la terra non fa parte Del sistema Quindi ci sono le forze esterne Ecco la data Quelle gialle Sono forze esterne E vi sto chiedendo Quelle forze gialle Hanno momento torcente Rispetto al centro di massa? Perché se ce l'hanno Allora il momento A quantità di moto Del sistema Non sarà costante Cambierà nel tempo Se invece Il momento a quantità di moto È zero Il sistema Non cambierà Il suo momento A quantità di moto Allora Rispetto al centro di massa Qual è il momento A quantità di moto Di questo? Il vettore posizione È così Qual è la direzione Del momento a quantità di moto Di questa forza Rispetto a qua Esce dalla lavagna Qual è il momento A quantità di moto Di questa forza I colori sono troppo simili Il momento di questo Esce dalla lavagna Mentre questo entra C'è una competizione C'è una competizione C'è una competizione I momenti Delle forze esterne Sono in competizione E i loro moduli Sono assolutamente uguali Non mi credete? Visto che Allora sta finendo Pensate Al Come si chiama? L'altalena? Il doldolo? Qua avete un signore Che ha massa Due volte Questo qui Quindi La forza Gialla Se questo è così E questo è Così Questa freccia Ha un modulo Doppio di questo Dov'è il centro di massa? E' più vicino a qua Ma che proporzione c'è Quindi Il momento attorcente Di questo Esce Il momento attorcente Di quello Entra Ma qual'è il modulo? Visto che gli angoli Sono a 90 gradi Perché io ho semplificato E la geometria Qua cosa è? Questo angolo qui E' uguale a quest'angolo Quello che sto per dire qua Comincetevi in questo disegno Sto passando qua solo Perchè è più rapido Mi manca poco Ma quello che dico qua E' vero anche qui Qual'è il modulo Di questo momento attorcente? Il modulo cos'è? Usiamo il linguaggio Dei meccanici Qual'è il braccio di leva? Questa è la forza? Cancelino Sto correndo Perchè so che sta per scambiare l'ora Ecco Ecco Lo so che è finita Ma io non ho finito Anzi, ralletto apposta Qual'è il braccio di leva? E' un certo valore Qual'è il braccio di leva? E' il doppio Qual'è questa forza? E' metà Questa forza E' doppia di questo Ma questo braccio di leva E' metà di quello Quindi i moduli Sono uguali Infatti Se voi mettete il vostro Per cerniera là Siete in equilibrio Non ruoterete Quindi La forza peso E' incapace C'è di far ruotare Il sistema Il centro di massa Perchè Questo momento Ottorocente Questo momento Ottorocente Sono posti E hanno esattamente Lo stesso modulo Morale Ovviamente Lo dirò meglio Martedì Ma la morale è questa Se questo è un corpo Di forma qualsiasi E qualcuno vi chiede Di disegnare la sua forza peso Siete obbligati Se il centro di massa è qua Siete obbligati a disegnarlo qui Al qualche altra parte State dicendo Che ha un momento Ottorocente Rispetto al centro di massa E state dicendo Che è accelerato Al centro di massa Siete obbligati a disegnarlo Al centro di massa Disegnarlo altrove E' un errore Perchè Disegnarlo altrove Vuol dire Che la forza peso Ha un braccio di leva Rispetto al centro di massa E quindi State dicendo Disegnando la freccia A cazzo State dicendo Che la forza peso E' capace Di far accelerare Angolarmente le cose E non è vero Non è vero Non è vero Quando porterò Il bastone Lo farò vedere Gli oggetti Quando volano per aria Se stanno già ruotando Il loro momento La qualità di moto Non sta cambiando Perchè? Perchè la forza peso E' nel centro di massa Io vi fermo qua Ma meditate su questo Non potete disegnarlo Dove vi pare Dovete disegnarlo Nel fottuto Il centro di massa Che è un concetto Così profondo Che manderò via Un altissima percentuale Di voi Su questo concetto qua Sul concetto di massa Sul concetto di Dov'è il centro di massa Sul concetto di Forza peso Perchè il centro di massa Perchè la forza peso Adesso è disegnato qua E non qua Qua Quante persone cadranno Su questa puzza di banana Ci vediamo Martedì Grazie 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 Grazie